Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva perché a me piace la politica dei fatti, non la politica degli annunci. Quando si deve realizzare, si dà inizio ad una opera pubblica, non è necessario fare l'inaugurazione e strombazzare tanto quell'inizio, perché poi magari non sappiamo se quell'inizio raggiunge anche una fine. Si festeggia a fine lavori, quando l'opera è completa. Se io mi iscrivo all'università non festeggio la mia laurea il primo giorno da matricola in cui mi iscrivo, ma quando conseguo la laurea e il titolo accademico. Ho voluto fare questa premessa per significarvi la situazione presente qui a Lama via Girasoli, lavori di completamento della rete di fognatura nera a servizio degli abitanti di San Vito Lama Carelli, tanta enfasi. Non metto in dubbio che i lavori si stiano facendo, però sta di fatto che qui abbiamo un cantiere che oggi, almeno vedete, è ancora allo stato primordiale. Siamo all'inizio, inizio, inizio, inizio e nel frattempo Melucci durante il suo mandato facendosi campagna elettorale già strombazzava chissà che cosa. Qui al momento vediamo un cantiere recintato e chiuso. Sono con la professoressa, la dottoressa Giovanna Bonivento, che è vicina al territorio. Lei è un'archeologa, una guida turistica, un peraltro presidente della vecchia pro loco di Lama e chiaramente noi sentiamo tante belle cose, tanti annunci, però poi alla fine la situazione è praticamente qui stiamo come stavamo prima. Questo è un tasto veramente delicatissimo, una storia infinita, quella della pompa di sollevamento per poter completare la rete fognante su via Girasoli, che è stata rotta a suo tempo per incassare quanto necessario per poter far confluire i liquami, ma voi pensate che i liquami, la fognatura diciamo non c'è, quindi i liquami dove vanno a finire? Vanno a finire o nel terreno o a mare o nel mare. Ma di quale turismo vogliamo parlare? Di quale ambiente vogliamo parlare? Quindi ci sarebbero problemi alla pompa di sollevamento? Questo è il focus del problema, c'è stata una prima pompa di sollevamento installata in un terreno privato con un contenzioso per cui a questo punto il privato ha vinto la sua causa e c'è stata la necessità di rifare la pompa di sollevamento. Intanto quindi qui la lentezza del procedere dovuto alla pompa di sollevamento è a quant'altro, da un lato questi tempi molto lunghi ormai incancreniti negli anni, gli abitanti di Lama purtroppo si sono abituati a essere trattati da cittadini di serie B, però poi alla fine noi vediamo la politica degli annunci. Si inaugura il cantiere e l'ex sindaco Melucci si presenta e come dire si fa campagna elettorale, fa passerella, salvo poi vedere che qui si procede con una lentezza molto ma molto, come dire, una situazione da rimarcare. Anni che si aspetta. Qui ora è tutto fermo, almeno qui davanti. Sì, nel frattempo le ville residenziali o quelle estive se non hanno la fogna Imo a regola non hanno nemmeno l'acquedotto per cui si fanno portare l'acqua con i camion. Siamo nel 2022 e stiamo ancora in una situazione, come dire, non voglio nemmeno dire africana perché non vorrei mancare di rispetto. Anzi, quelli magari sono paesi in via di sviluppo, qui lo sviluppo non lo vediamo. No, no, è tutto potenziale, ma potenziale veramente. Tutto è nei progetti, nelle carte, nei tagli del nastro. Ripeto, lo sottolineo, io massimo rispetto per carità per la ditta che sta eseguendo i lavori, però la mia rabbia ovviamente non è con la ditta che non ha responsabilità, ma io dico l'amministrazione comunale prima completa un'opera, se si riesce a completare, e poi festeggi. Viceversa, se io prometto Mari e Monti posso fare 300 inaugurazioni al giorno? Il problema è realizzare l'opera, non annunciarla. L'annuncio non vuol dire realizzazione. Sì, in effetti questo è il problema più grosso per Lama, ma non solo per Lama, per l'intera città di Taranto, che l'estate viene a godere di questo mare. In queste condizioni lei ha fatto riferimento ai liquami, non penso che sia stato un bel biglietto da visita per i turisti. Assolutamente no, e a proposito di biglietti da visita vorrei mostrarvene un altro di carattere artistico, culturale e storico molto interessante. Ma noi stiamo facendo con la professoressa Bonivento una serie di interventi in loco, proprio per rappresentarvi quelle che io definisco le bellezze negate. Vorrei diventare il primo cittadino per dare queste risposte, per esaltare le nostre bellezze, esaltandole attraverso la realizzazione di opere pubbliche che non siano soltanto annunciate, ma realizzate. Delle tante promesse e dei tanti slogan ad effetto, i cittadini purtroppo hanno davvero le tasche piene.